Giuseppe Loiacono, l'emozione di un gol con la fascia da capitano? Un'emozione grandissima, lo volevo e lo cercavo da tantissimo tempo, finalmente è arrivato e adesso ci godiamo il momento. Il Foggia cala il trist dopo aver calato il poker a Cremona, però soprattutto non prende gol? Sì, assolutamente sì, siamo stati bravi ad essere una squadra compatta, ad essere solidi e in queste ultime due partite l'abbiamo dimostrato. Vi ho chiesto già a Deli prima e a Stroppa, come fa questo gruppo a isolarsi completamente da ciò che succede in settimana? Sembra quando scendete in campo che durante la settimana non arrivino notizie? Il nostro mestiere è quello di allenarci e di andare in campo, le faccende estranee al campo non ci devono interessare, sono problemi della società e se risolvono loro. Il nostro obiettivo è quello di restare sempre concentrati di partita in partita. A proposito di obiettivi, adesso cosa cambia nella stagione del Foggia? Per il momento ci godiamo questo obiettivo che diciamo che abbiamo raggiunto, poi chissà. Avrei sentito, c'è Foggia Ternan, c'è Ternan a Foggia, ma avrei sentito un po' di cori che già indirizzavano al derby, tu lo senti particolarmente, che si respira nell'ambiente. Sì, però prima del derby abbiamo una partita importantissima che è quella di Terni e quindi ci concentriamo in quella partita.